Continuano i contagi, continuano i morti, resta forte, forte la preoccupazione per il diffondersi della pandemia. In spirito di collaborazione istituzionale col governo nazionale, col presidente della regione e con il prefetto, fino ad oggi giornalmente siamo in contatto per cercare di trovare al meglio le soluzioni per arginare un pericolo di ripresa del contagio. Bisogna conciliare certamente l'esigenza della vita, questo tempo di avvento, il tempo di Natale, con la garanzia del diritto alla salute. Per questo, intesa con tutte le altre istituzioni competenti, adotteranno tutti i sindaci della Sicilia misure a volte anche al contenimento di attività o a diversa articolazione degli orari e delle attività commerciali per poter evitare assembramenti, per evitare anche di dover ricorrere a provvedimenti di chiusura certamente gravi e pesanti per tutti.